Buongiorno a tutti, sono in compagnia con l'amico, collega e grande commercialista, esperto in fiscalità nel trading, con cui ho iniziato un bellissimo progetto. Massimo Tonci ci spiegherà velocemente qual è questo progetto. Buonasera a tutti, questo progetto si chiama Soluzioni Forex ed è una guida fiscale molto completa, ricca di un sacco di esempi e vi spiegherà e vi condurrà passo per passo attraverso tutti gli adempimenti che ci sono da fare attorno a quello che è il mondo del Forex, attorno a quello che è la redditività che naturalmente con Arduino c'è sicuramente. Quindi noi esaminiamo tutti i vari aspetti, gli aspetti di pagamento dell'imposta, la teale in unica soluzione, gli aspetti dichiarativi, come fare la dichiarazione 7.30 e tutti i problemi a cui non si trova mai una soluzione, tipo a cosa succede sul broker all'estero e via dicendo. E per tutto il resto vi lascio al libro, vi rimando al libro e alla videoguida e a tutto quello che sarà questo progetto dal nome Soluzioni Forex. Bene, quindi direi che videocorso più ebook sapete come fare a livello autonomo la vostra dichiarazione, meglio di così penso sia. Quindi vi salutiamo e vi invitiamo a comprare ebook e videocorso per essere sempre più professionali. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.